C'è un software piccolo piccolo che si propone addirittura di rivoluzionare il modo in cui noi utilizzeremo il nostro telefonino si tratta di qualche cosa che per il momento è solo disponibile negli Stati Uniti, vediamolo insieme Avrete forse capito che il tema di oggi è il nuovo software targato Facebook, si chiama Paper e vediamo un po' come funziona Vediamo subito come si comporta con l'installazione, in questo caso su un iPod Touch una scelta che ho fatto perché per poter installare Facebook in Italia bisogna fare un'operazione molto semplice ma un po' fastidiosa, cioè quella di cambiare il proprio paese di appartenenza su iTunes da Italia a Stati Uniti Questo è facilissimo se non avete iTunes Match, se avete invece iTunes Match è un po' più noioso Allora vi faccio vedere quali sono le parti fondamentali Allora quando voi installate il vostro programma potete, in pratica ecco, lo swipe è la parte fondamentale di tutto ciò che voi farete Quando installate il vostro programma avete questa cosa importante, potete editare le sezioni Vedete queste sono le sezioni in questo momento a disposizione, ve le faccio vedere anche un po' meglio Voi in pratica prendete una di queste sezioni, ad esempio vediamo Planet, fate uno swipe verso l'alto e a questo punto avete le vostre sezioni una accanto all'altra Vedete io ho messo Enterprise, ho messo Headlines, Tech, Planet e poi Facebook A questo punto potete scegliere di navigare, vedete in alto la parte con l'indicazione Facebook, Planet, Tech, Headlines, Enterprise Qui sotto appaiono le informazioni che voi volete vedere Quando c'è una notizia che vi interessa la riportate verso l'alto, quando volete entrare la riportate in questo modo In modo tale che vengano caricate le informazioni di cui sopra, vedete adesso si è collegato con il Wall Street Journal Quando invece da questo punto volete essere voi a creare un post fate una cosa di questo genere Ovvero fate uno swipe verso il basso, quando siete dentro l'articolo e volete in qualche modo, adesso ce la faremo Fare una condivisione, vedete a questo punto avete qua in basso i pulsanti classici di Facebook Quindi insomma il dito e il movimento, ecco potete fare un'altra cosa che quando siete all'interno di una sezione E volete spostarvi da una storia all'altra, basta girare in questo modo il vostro movimento Tra l'altro ecco c'è una voce che nella parte iniziale vi guida e qui avete i vostri pulsanti di condivisione Avete visto insomma tutto sommato molto molto semplice, questi sono i settings per vedere un po' quello che potete fare Quando siete all'interno della vostra stessa applicazione, interessante c'è questa connessione con diversi servizi di Ready Later Avete visto c'è Instapaper, c'è Pocket, c'è Pinboard, insomma in questo modo potete anche scegliere di portare la vostra notizia Su uno dei vostri software per la lettura poi a posteriori Quindi questo molto semplice Facebook Paper cambierà veramente il nostro modo di utilizzare il telefonino Sarà veramente una grande rivoluzione dal punto di vista dell'uso del telefonino Io ieri dopo i primi minuti, dopo aver smanettato qua e là, vi devo dire che qualche perplessità ce l'ho Così come era successo con Facebook Home, abbiamo aspettato tutti per mesi Facebook Home Abbiamo installato l'applicazione e poi abbiamo detto, beh tutto qua e probabilmente molti di voi subito dopo l'hanno disinstallata Paper forse è un pelo più accattivante, ma sono curioso di sapere anche il vostro parere quando arriverà in Italia Perché tutto sommato io non la vedo la rivoluzione che è stata paventata Grazie a tutti